Musica Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio Non mi ricordo quale numero Facciamo la nan che è già noto Buongiorno Allora ragazzi da oggi in poi inizierò a fare cose un pochino più serie Perché sono già lontano con gli episodi ma ancora non ho fatto nulla di che Intanto non hanno le sono cresciute le teste Allora vediamo un po' che ci ha raccolto Due lecca lecca e una pistola Due mele che ci serviranno Il cerotto potrà servire Del pane E pannocchie e pesce poi lo cuoceremo Va bene Va bene Allora abbiamo l'anello Voilà Quanta energia abbiamo Un 8400 Per cui potremmo andare in giro a cercare Le cosiddette api Api strane Oh un'altra bambina potremmo fare un altro nonno più avanti volendo Però adesso no Allora clicchiamo F7 Togliamo i rumori ambientali Della Matmos Allora andiamo a cercare le Le cose lì Le api Dobbiamo spostarci dal bioma Dal nostro bioma Che bello sto vulcano È tipo la serie in coppia della Techit È similissimo Allora Sì ragazzi è un po' lento a caricare Perché è pieno di mod Lo sapete Allora qua ce l'ho C'era Andiamo verso il deserto Andiamo verso il deserto Perché ora abbiamo l'anello E possiamo volare Allora 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 abbiamo un albero azzurro Per cui direi di Raccogliere Le sue piantine Quelle che si illuminano Vediamo se le troviamo Non ci sono Però io abbatterei proprio l'albero direttamente ragazzi Perché Ci servirà Ecco Ogni volta che registro Dei passare un'ambulanza sotto casa mia Prendiamo anche un po' di foglie Giusto per Averle Ok Possiamo andarcene Bene Continuiamo la ricerca Oh Che è qui Cos'è una cavernica Una cavernica Cristalli Quello blu Bene Allora Dove sto andando Non lo so neanch'io Di là c'è il deserto E non vedo Non vedo Chi è Cazzuridio Chi è questo Aiuto Aiuto Crepato Mi ha dato della sabbia Ma inizieremo ragazzi a trovare cose strane Per cui abbiamo l'anello Vi ripeto E possiamo già domesticare Un bel po' di animali Però prima di domesticare gli animali Volevo per prima cosa A costruire un bel recinto Per gli animali Che ne dicete Per poi prenderli Oh Carichi Sì proprio sul cactus Dovevo scendere io Allora Cerchiamo le api Abbiamo detto Le api 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 Cristallo verde Ah è vero che a casa Avevo messo anche a fare Una pergamena Vediamo poi al ritorno Se l'è conclusa Qua abbiamo del petrolio Che potremmo raccogliere Che potremmo raccogliere Qui ho visto Ah della sandstone Dai api 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 Non chiedo tanto Solo delle api Solo delle api Solo delle api Intanto qua vedete Alberi strani Costruzioni Piante strane Questi alberi Quasi quasi Me li fotterei Perché mi sa Che non ce li abbiamo Infatti Mi sa che questi qua Non li abbiamo Ci fottiamo Tutto l'albero Anche questo qui Perché poi Dovamo fare ancora Il La piantagione Ragazzi La mega piantagione Quella che tanti di voi Vogliono vedere Sono curiosi Allora Mi sa che siamo già pieni Nell'inventario Perfetto Allora direi di spostare il tutto Togliamo sta pistola Appoggiamo un attimo Le cose qui Oh perché Ok Appoggiamo qui le cose Guara Ok Allora Dai api Porca trota Oh Ragazzi Sono un pirla Sono un pirla Perché Ora questo Come se lo mi sticavo Non mi ricordo Poi lo prenderò Lo prenderemo Sono un pirla Perché non ho messo La portal gun Pensate quanto sono pirla Da uno a uno Per me è due Vabbè Ragazzi Non trovo api O sono pirla io O sono scemo io In ogni caso Api non le trovo Un altro albero Intanto Ah questo non cade tutto Belle queste piante Me ne fotto un po' Se mi dà l'alberello Mi fa anche un favore Guarda Non mi ha dato l'alberello Perfetto Allora 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 C'è lo scemo Che ride E io non trovo api Una bambina gigantola Niente ragazzi Ho girato un po' Ma non riesco a trovare api Comunque ho trovato una giungla E lì sicuramente ci saranno Guardate cosa ho trovato Intanto Un bel canyon Un bel canyon Dove A me serve un'altra cosa Che ora vi faccio vedere Allora Prima di tutto I cristalli Intanto mi fotto Anche questo ferro Poi mi fotto Quei minerali sopra Dove l'ho visto Questi qua azzurri Dovrò cercare ragazzi Perché mi servirà E anche parecchio Il fertilizzante Perché avendo aggiunto La forestry Si sono aggiunti Anche i fertilizzanti Che ci serviranno Per altri macchinari Che poi vi farò vedere Anzi Speriamo di trovare Adesso le fertilizzante Perché mi serve Per forza Vediamo delle torce Sì Allora Qua non c'è fertilizzante E non so Dove andarlo a prendere Allora Qui c'è la redstone La prendiamo subito Subito Un top Oh 85 topi E dai Bella andare a esplorare Con l'anello Direi facile Ma bello Allora Prendiamo la redstone Abbiamo visto Della redstone Siamo già pieni Però sono pirla Perché io ho lo zainetto Pirletta Ho lo zainetto E io posso spedire Tutto a casa Così intanto Inizio a smistare Via 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 i cristalli Via questo Via questo Via la redstone Ok Allora Abbiamo detto Lì c'è l'apatite Mio figlio Che sta giocando Con i giochi Un calamaro Dai Ma è possibile Che non trovo Fertilizzante Non mi dite Che non c'è In questo bioma Allora A me serve Le fertilizzanti Non mi interessa Un kaiser Un kaiser Oro 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 E dai Ok Raccogliamo Quest'oro Solo due erano Si Oro Poi Poi Dicevamo Fertilizzante Fertilizzante Adesso non mi ricordo Guarda quanto Quanto sono scemo Via 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 No Ho perso tutto Ragazzi ho perso tutto Ho perso Tutto Nella Lava Come Un pirla Di una Cotoletta In calore Ladra Accecata Ho perso tutto Ragazzi Mi devo Ricraftare tutto E siccome 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 Mi sono incazzetto Nero Menomale che abbiamo Diamante Abbiamo tutto Ragazzi Io stoppo il video Stoppo il video Mi ricrafto tutto Tranquillamente E ci vediamo Nel prossimo Video Dagli occhi Tutto Acidino Acidino Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti